La tensione è salita in pochi istanti al termine di un banale litigio scatenato durante la cena pare dalla discussione sulla preparazione dei piatti. Momenti di paura al centro di accoglienza straordinaria per migranti aperto nell'ex Hotel Pacifico di San Pietro Ingu. Protagonisti due ospiti, un ventenne nigeriano e un senegalese di 23 anni. Dalle parole in pochi istanti si è passati i fatti, con il nigeriano che non avrebbe esitato a spaccare una bottiglia di vetro con la quale ha aggredito e ferito al volto e alle mani il senegalese. Lo straniero è stato soccorso e medicato in ospedale a Cittadella, ne avrà per dieci giorni. A San Pietro Ingu sono arrivati i carabinieri che hanno ricostruito l'accaduto e denunciato per lesioni in nigeriano.